Buongiorno a tutti, io sono Giorgio Trizzino e sono da poco stato eletto Vicepresidente della Commissione Speciale alla Camera dei Deputati. La Commissione Speciale ha un ruolo fondamentale perché di fatto da essa passano tutti gli atti urgenti del Governo su cui il Parlamento deve esprimere il proprio parere. Tra questi potrebbero esserci anche il DEF che è il documento di economia e finanza che traccia le linee di politica economica dei prossimi tre anni. È un documento cruciale sul quale il Movimento 5 Stelle intende dare il suo contributo per un piano economico innovativo che permetta politiche espansive e insieme alla riduzione del debito. Ci occuperemo anche dei temi più svariati, dall'ambiente al turismo, dai trasporti alla sicurezza delle reti informatiche e la Commissione lavorerà fino a quando non si insedierà il nuovo Governo e quindi verranno costituite le commissioni parlamentari permanenti. È la prima occasione che ho per mettere al servizio del Paese le mie competenze professionali che sono il frutto di anni di lavoro e di impegno nel campo della sanità e della tutela della qualità della vita. È una responsabilità che sento profondamente e che porterò avanti con impegno nella convinzione che anche attraverso il lavoro di questa Commissione si potrà dare una risposta alle esigenze del Paese e dei cittadini che da troppi anni ormai aspettano un governo di cambiamento. Sono certo che questa è l'occasione buona per aiutare davvero l'Italia a crescere e a diventare un Paese migliore.